Salve a tutti ragazzi, sono Kigolera e oggi faremo un nuovo video di spaznetta e poi faremo una partita nel domino di Doom in coppia che io in singolo non riesco beh, sembra normale, no? no, io non riesco lì dove volerbbe andare? io prendo qua sotto perché voglio andare qua sotto ci stanno l'elicottero come giusto venga giusto più 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 Sì, figlio, lo ti prego. Sì, qua sotto! Piccolo! Ti prego, vieni a me, ma... Eh, chi bug? Libidu. Libidu sei, ti prego. Vieni qua. Tu coi no? Sì. Bravissimo, amico! Polizioni in su. Non posso scettarmi. Ah! Ah! Di una mitraglietta tattica, io. Grazie, ve lo sciguolo. Con la mitraglietta tattica era la mia. Oh, non va mai da me. C'è un po'. Ma dai, però... Cioè, ma è normale, ragazzi. Perché muoio sempre? Fa po', fa po' di pena, ma il bug. Fa pure pena. Il povero giocatore che voleva fare una passita normale in coppie. Però qui, trova me, che sono un hardware. Che è tutto più good. Ah, mi scambia la stiglia. Mi scambia la stiglia. Vale. Allora, c'ho... Algo kit, vero? Vai! Vai! Sono forti, ragazzi. Adesso io gioco con mida qua. delle stragi facciamo con midino. Aspettando che si carica. Che dico... Così, precisamente. Cosa dovete fare adesso? Premere il tasto rosso. Iscriviti. Sul canale L09. Con 26 iscritti. Chi non è iscritto, deve iscriversi. è un po' semplice. E' un po' semplice fatto. Ecco. Io vuole andare anche... Io non so dove vuole andare lui. Io non so dove vuole andare lui. Io non so dove vuole andare lui. Io non so dove vuole andare al domino di Doom. Perfetto! E io ti batto prima. Non so che tu vuole andare al domino di Doom. Sì, devo fare il video con le scuole. Io non l'ho tagliato, eh. Perché non l'ho tagliato in mezzo. Io non so dove vuole andare al domino di Doom. Io qui mi abbiò tutta l'altra parte. Ok. Però mi piace. Cioè, questo è il nostro... Io non mi butto là la casa. Io butto qua. Si butta dall'altra parte. No, allora. Calmi. Calmi, eh. Stavolta calmi. Stavolta calmi, ne ho detto. Oh, un pompa. Bene. Mi piace. No, questo no. Ho capito che mi voglio uccidere, sai, quando... Mi bello uccido con la pistoletta. Perché devo andarmi a stregare la roba. Noi? Non c'e l'acasta. Perti oameni... Perti oameni... Perti oameni... Perti oameni... va bene ti prego non mi finire mi ha finito vabbè ragazzino